ciao a tutti sono francesco berini e benvenuti sul mio canale bene oggi ho l'immenso onore di presentarvi grazie a selmer pari italia la nuova fatica di henry selmer pari il supreme in esclusiva via del tutto eccezionale ne ho uno qua in laboratorio starà qua pochissimo sfortunatamente però abbastanza da poter registrare questo video condividere con voi l'innovazione tecnica di cui selmer ci ha reso partecipi con questo gioiellino allora da dove possiamo iniziare iniziamo dall'estetica lacca scura in onore dei vecchi tempi quindi una lacca molto ambrata come i vecchi modelli degli anni degli anni 50 un'incisione ricchissima che si stende praticamente su tutto il corpo con questi quadratini e questi cubetti che vogliono andare a richiamare la struttura chimica e la struttura interna del metallo quindi in onore di quello che è la il cuore pulsante del sassofono e che dire uno strumento che si chiama così in onore del dell'album di john coltrain love supreme e che si staglia quindi come punta di diamante della ditta costruttrice francese leader mondiale nella produzione del sax che altro possiamo dire l'intenzione e l'obiettivo di questo strumento è quello di essere uno strumento trasversale tra la musica classica e la musica jazz quindi in teoria dovrebbe riuscire a soddisfare i musicisti di entrambi i settori quindi un un obiettivo non da poco ci riuscirà o meno questo dovrete dirvelo voi a voi stessi andando a provare questo gioiellino per me rimane uno strumento veramente da meccanico uno strumento che rasenta quasi la perfezione iniziamo dall'inizio ovvero dal keyver l'innesto del keyver è qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario nel sassofono moderno l'innesto praticamente è completamente nuovo perché viene innestato in una maniera rivoluzionaria non più con un singolo taglio ma con tre tagli che andranno in funzione di questa ghiera qui a chiudersi in maniera omogenea sul collo del sassofono dandogli una tenuta omogenea ergonomica e praticamente stagna come abbiamo già parlato in altri video la tenuta in questa zona è veramente fondamentale quindi non deve assolutamente passare aria e la tenuta effettivamente è perfetta scendendo andiamo a vedere l'innovazione già riscontrabile nei modelli serie 3 di una chiave aggiuntiva a correzione del do diesis acuto ok quindi un regalo a quelli che si lamentano sempre dell'intonazione le chiavi possiamo vedere che sono state completamente ridisegnate e chiaramente stiamo parlando di uno strumento che ha richiesto ben otto anni di lavoro di ricerca e collaborazione con alcuni dei migliori musicisti del mondo il portavoce mi fa già paura perché è un portavoce molto complesso quindi la regolazione sarà veramente divertente per noi tecnici avremo di che sbizzarrirci con questa bella meccanica ed è completamente rivoluzionaria con dei nuovi rullini e degli apparati interfroni interni che lo rendono effettivamente bilanciato e molto scattante quindi anche noi avremo di che studiare quando dovremo andare a regolare questo strumento in futuro scendendo va bene qua ci sono le solite viti di regolazione già introdotte da Selmer nei modelli Jubilee completamente ridisegnata è la parte delle note laterali ed effettivamente risulta essere particolarmente comoda e facilmente raggiungibile quindi veramente hanno puntato ad un'ergonomia a prova di bambino direi un'aggiunta di una chiave qui anche questa cara ai modelli ma insomma diciamo che la vita è così la si vede spesso negli Nagisawa però insomma era un braccetto in più lo si vedeva già negli strumenti utilizzati da Michael Breaker per esempio quindi una nota in più un rinforzo in più per la corrispondenza della mano destra che di solito è una delle prime chiavi che andranno a stararsi quindi non guasta scendendo ancora possiamo trovare l'ergonomia anche questa ridisegnata di do grave e mi bemolle grave e in onore dei reference e quindi dei mark 6 e dei super balance la madre perla anche nel fadiesis laterale una nota particolare va alla campana la campana in questo caso ha una struttura completamente diversa è più lunga e anche ovviamente in proporzione i cammini del si e si bemolle grave sono stati ridisegnati ribilanciati per migliorare l'intonazione delle note gravi questo dona allo strumento una profondità una rotondità di suono che effettivamente gli strumenti moderni solitamente non hanno questo dovrebbe appunto strizzare l'occhio agli amici del jazz la gabbietta esteriore qui di protezione della chiave della mano destra è praticamente ridisegnata sul modello dell'Adolf Sachs quindi lo strumento che la Selmer ha prodotto in in onore dello zio Adolf e tutto il plateau del mignolo della mano sinistra è la coppia vincente del serie 3 soprano quindi comunque molto bilanciato molto facile molto gestibile eccetera una cosa che ho notato particolare del keyver che non mi era stato detto ma effettivamente a mano la si sente è un keyver molto leggero quindi veramente come grammatura un con keyver molto con una grammatura molto bassa non ha la piastra di rinforzo qua davanti è una piastra molto leggera anche qua in stile serie 3 quindi un keyver che vibra molto facilmente probabilmente e che dire uno strumento veramente veramente eccezionale sono stato contentissimo di averlo potuto recensire per voi passate a provarlo perché secondo me veramente è uno strumento che ha qualcosa in più da più da dire non se ne vedevano così da parecchio grazie di avermi seguito iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao